Dopo l'incontro con i Numemon, i nostri amici raggiungono la città dei balocchi. Un Digimon chiamato Mopalemon, sotto l'influsso del Black Gear, l'ingranaggio nero, si impossessa della città dei ragazzi e imprigiona Agumon e gli altri. Mimi e Palmon accorrono subito in aiuto dei loro amici. Palmon, Vigievolve, godo! Sì, e voglio partecipare anch'io. Io invece voglio fare una panna di neve. Di che è fatta una panna di neve? Non lo so, ma deve essere piena di roba da mangiare. Ma non pensi mai ad oggi? Sono io il responsabile per tutti voi, Sora. Devo fare in modo che non corriate alcun pericolo. Sono il più grande del gruppo. Ma non voglio nemmeno farvi preoccupare troppo. Gruppo. Aspettate un momento. Sento un odore molto strano. Sì, è vero, lo sento anch'io. Voi che dite, cos'è? Fatemi pensare, sembra così. Guardate la sua. Si vede del fumo. Non è fumo, deve essere vapore acque. Ho una fonte feroce. Guarda là. No, non ci posso credere. Di che parli? Evviva! Siamo salvi, ragazzi! Ma non è possibile, ti dico. E poi come accidenti ci sarebbe arrivato fino a qui. Siamo salvi. Siamo salvi. Siamo salvi. Siamo salvi. Grazie a tutti. Guardiamo che cosa c'è dentro. Levatelo dalla testa, Matt. Sono d'accordo, perché non lo apriamo? Non se ne parla. Ma sei pieno di gelati. Cosa sono i gelati? Va bene, basta, lo apro io. Guardate! È pieno un ceppo di uova! Perfetto, ragazzi. Oggi abbiamo la cena assicurata. Aspettate, ragioniamo con calma. Non sappiamo nemmeno se le possiamo man... Papaculo! Bene, a dire la verità, sento la mancanza del riso bollito. È buonissimo insieme alle uova sode. Non continuate o svengo! Che ti succede, Joe? Non hai fame per caso? No, è solo che stavo pensando che se fossimo a casa tutti questi problemi non ci sarebbero. Sono tanto triste, voglio tornare a casa. Chissà che stanno facendo mamma e papà. Ormai sono più di quattro giorni che siamo qui da soli. Cambiamo il discorso. Voi che cosa ci mettete sulle uova al pegamino? Che razza di domande fai? Lo sanno tutti che sopra ci si mette il sra... Anche la salsa di salsa o la maionese. E la salsa piccola salte, no? Secondo me il massimo è quella all'aceto. La salsa all'aceto? Ah, ma che schifo! Ma vi rendete conto di quello che dite? Sulle uova al pegamino bisogna metterci tonnellate di zfallero. O meglio, ancora semi di zfallero fermentato. Non semi mi chiamavolata. Che cosa? Davvero voi mettete tutte quelle porcherie sulle uova al pegamino? E anche noi lo siamo. Attenso, dai! Come va, Greymon? Tutto a posto? Greymon! Va bene! Vega, vettola! Vega, vettola! Vega, vettola! Vettola, vettola! Vettola, vettola! Hagumon! Non è stato quello. Cosa? Il merito è stato solo dei miei sforzi. John non ha fatto proprio niente. Almeno credo. Anzi, sono sicuro di aver ragione. Questa volta ho fatto tutto da solo. Beh, me sto una obiezione. Vabbaculo! Io? Vettola! Lo prego, allora. Guardate, Gamamon è diventato rosso! Cazzita! Non sono diventato niente! Forza ragazzi, siamo quasi in cima. Muoviamoci! Questa è... Una vignia!